Ha incontrato il suo violentatore in ospedale, dove era andata a trovare il fidanzato ricoverato. In difficoltà, perché non conosceva l'italiano e perché era a Palermo per la prima volta, ha chiesto all'uomo, un inserviente, una serie di informazioni. Lui l'ha aiutata e poi si è offerto di andarla a prendere in albergo per passare insieme la serata. La vittima si è fidata. Comincia così il racconto della notte degli abusi fatto dalla cittadina canadese, che ha denunciato tutto ai carabinieri. I due hanno mangiato e bevuto, raggiunto un amico dell'uomo e poi sono tornati in albergo. Ero felice, mi stavo divertendo, quindi non mi sono resa conto del tempo che passava. Lui era gentilissimo, ha raccontato ai militari. Poi, l'approccio che la donna ha tentato di respingere. Non ricordo nulla, da quel momento in poi ha proseguito. La vittima, che aveva i dati del profilo Instagram dell'uomo, ha indicato chi fosse agli investigatori. Al complice, i carabinieri sono arrivati mettendo sotto controllo il cellulare dell'inserviente e grazie alle analisi dei tebulati telefonici, che hanno accertato la presenza dei due nel BNB la sera della violenza.